Per SvSport, Davide Grip, oggi è una partita importante contro la capolista, ma il Cugliano ha dimostrato comunque di saper giocare bene il pallone e rischiare più volte di segnare anche la rete del vantaggio. Sì, è una partita bella, maschia, contro una squadra forte, sono venuti qui come primi in classifica, ci tenevamo, abbiamo fatto un primo tempo ottimo, secondo tempo siamo giustamente un po' calati, però alla fine è venuto fuori un bel match. Cosa va assolutamente migliorato? Il gol, il gol fondamentale, sono due partite in casa che facciamo 0-0, in difesa andiamo benissimo, davanti ci manca qualcosa per poter ottenere i tre punti. Una squadra giovane che però guardando la classifica non lo sembrerebbe, alla fine il playoff potrebbe essere un sogno realizzabile? Noi siamo partiti umili, con il fatto di pensare di mantenere la categoria, in realtà adesso i risultati stanno venendo, abbiamo perso solo la prima partita, sono se non sbaglio sei risultati utili consecutivi, la squadra c'è, il gruppo c'è, noi ci crediamo. Sei un giocatore della grandissima esperienza, hai giocato un po' ovunque, ti senti un po' chioccia verso questi giovani? Assolutamente sì, tanti ragazzi hanno 20 anni meno di me, però io fino a quando mi sento bene fisicamente vado avanti.